Allora, facciamo le recensioni di quest'altro panino, quest'altro cuzzutiello intitolato Zia Rosa. Dentro ci sta prosciutto cotto, patate a forno, mozzarella, non mi ricordo altri ingredienti, comunque deve essere buono. Comunque mi è venuto in mente la frittata di patate, polpetta fritta, poi casomai altri ingredienti ve li dico sotto nei commenti. Con questo vi auguro buon appetito e ciao ciao!